eccoci qua brava gente riprendo eccoci qua eccoci qua abbiamo ripreso e perdonatemi credo sia dovuto alla musica che ha il copyright e quindi ho ripreso la diretta vi dicevo vi dicevo che porto ancora nel cuore le immagini di di leopoli di chiev le persone incontrate i giovani pensavo alla sant'egidio ai volontari della sant'egidia iuri ad emiliano andrea che mi sono volontari di auxilium ai nostri frati a chieve a leopoli e porto tutto quel dolore qui sulla tomba di san francesco per questa guerra insensata per un po di potere brava gente e pensavo anche all'altra immagine di oggi quella del papa e vescovi italiani accompagnati da cardinal bassetti 60.000 a chi dice 80.000 giovani e qualcuno ha fatto un po di polemica su blanco che non ha senso questi giovani vanno ascoltato la stampa il direttore mi ha chiesto un editoriale per domani che gli ho inviato oggi pomeriggio per dire non giudichiamo nessuno ascoltiamo che è la cosa più bella ma poi domani la condivido con voi e quello che ci dà forza stasera è questa bussola brava gente questa bussola del vangelo che noi scegliamo per orientare il nostro cammino verso il bene verso il sommo bene come lo chiamava san francesco il vangelo è straordinario il titolo è luce che squarcia il buio luce che squarcia il buio brava gente luce che squarcia il buio come questa luce che squarcia illumina il portale dell'ingresso alla casa di cesco e che illumina il nostro cammino il vangelo è bellissimo l'incontro tra maria e la maddalena una donna peccatrice una donna che gesù le disse maria e la si voltò e gli disse in ebraico rabuni che significa maestro vedete il vangelo di questo martedì di pasqua ci invita a comprendere il senso dell'amore brava gente la responsabilità di testimoniare la resurrezione di gesù è stata data ad una donna così anche questa straordinaria pagina di vangelo vede come protagonista le donne le donne resurrezione e ogni volta che cadiamo e ci rialziamo brava gente ogni volta che sbagliamo e ricominciamo è una forma di resurrezione anche questa è il cuore del nostro essere cristiani del nostro cammino se volete il senso della pasqua brava gente lo scambio tra gesù e maria è il cuore della pagina di oggi e ci restituisce il senso dell'incontro di ogni incontro brava gente quando ci sentiamo chiamare per nome e siamo pronti a rispondere maestro gesù ci chiama per nome brava gente valentina angelo michela ivana e roberto carmine alessio e camminita no giuseppina no vede tutto questo vincenzo no mario giovanni c'è gesù ci chiama per nome e anche il senso degli incontri umani che viviamo quando è bello quando uno ci chiama per nome no padre enzo signora maria no è bellissimo marco non lo so è è tutto lì nella nostra capacità di accogliere chi ci dà dignità perché quando chiamiamo per nome è una persona non gli diamo dignità c'è una lettura a mio avviso fondamentale brava gente questa annotatevola che è stupenda è un passo che mi ha sempre accompagnato e mi ha dato luce su molte cose che ha segnato profondamente i miei studi teologici è quella di un pare della chiesa giovanni climaco il quale ci dice ascoltate bene brava gente sentite bellissimo ho visto anime impure furiosamente invischiate negli amori carnali le quali avendo tratto dall'esperienza di quell'amore passionale passionale occasionale di penitenza trasferiscono poi lo stesso amore passionale nel signore e calpestano immediatamente ogni timore è bellissimo e si sentono insaziabilmente spronate all'amore di dio perciò il signore disse a quella casta peccatrice che aveva molto peccato e così aveva potuto facilmente scacciare l'amore con l'amore scacciare l'amore con l'amore scacciare potremmo dire i farsi amore con il vero amore ma non è straordinario brava gente guardate questo è un parere della chiesa che legge la vita delle persone e non le giudica non le giudica questo passaggio ci dà il senso di un incontro in grado di cambiare la vita non scandalizziamoci mai di fronte alle situazioni più disparate agli episodi più peccaminosi non scandalizziamoci sapete brava gente adesso vi faccio una confidenza chi si scandalizza è perché ancora non si è scandalizzato del suo peccato vi potrei fare un elenco di persone che ho visto cadere nel campo o sul campo che si scandalizzavano degli altri e poi dopo lo scandalo loro se lo portavano dentro ecco perché dicono scandalizziamoci mai brava gente ecco perché questo passo per me è stato illuminante il passo di vangelo di oggi conferma anche un'altra verità quale che sia la situazione che viviamo possiamo trasformarla in amore per dio e per gli altri anche i peccati più brutti in ciò possiamo trovare il significato più intimo della nostra resurrezione da questa pagina possiamo comprendere come per uno strano paradosso sia proprio nel buio più buio di fronte alla morte di fronte a un corpo che non si trova come la maddalena che non trovava il corpo come maria di magna che non lo trovava nel cuore del sepolcro nell'abisso del buio è proprio lì che si accende la luce della speranza brava gente due angeli bianche vesti ecco perché qualsiasi cosa ci capiti è foriera di luce brava gente qualsiasi cosa vi capiti mi capiti è foriera di luce una luce che illumina squarcia spazza via il buio ed è proprio lì che la nostra vita riacquista dignità brava gente che viene chiamata per nome ecco perché ci diciamo buonasera brava gente buona giornata brava gente eccoci qua come state come state questo è il vangelo di oggi brava gente quando dolore porta nel cuore sapete stasera non ce l'ho fatta camminare e ho detto al signore stasera sto davanti alla casa di cesco perché molte persone hanno condiviso questo viaggio e vi ringrazio per le migliaia di messaggi anche la vostra bella apprezzione come mamme come papà come fratelli maggiori o minori e mi avete accompagnato e lo avvertite arrivate arriva è arrivata qui è arrivata nel cuore è arrivata qui e mi ha sostenuto mi ha sostenuto da andare avanti e gli faccio una confidenza brava gente ci ritornerò ci ritorni dopo un altro carico di umanità ecco adesso va bene mi devo fermare basta e mi devo fermare non mi fate parlare del viaggio in ucraina devo devo metabolizzare lo devo buttare dentro brava gente perché quello che si è visto è qualcosa di incredibile ti viene da dire ma come è possibile come è possibile ti viene da dire gente basta brava gente cesco pensaci tu cesco pensaci tu essendo di dire solo questo brava gente e accompagnandomi con la preghiera sì perché quella mi dia la forza di andare avanti e andiamo avanti nei prossimi giorni vi dirò anche il motivo vero al di là di quello ufficiale era importante il signore ancora una volta ci ha protetti sapete ci ha protetti perché appena siamo partiti nel cuore della notte la mattina dopo hanno bombardato di nuovo proprio dove stavamo e forse se durava un giorno in più eravamo costretti a rimanere lì non so se era meglio o peggio brava gente la cosa più brutta ammazzare le persone ecco perché con la lingua non dobbiamo mai ammazzare nessuno brava gente mai si può ammazzare con un fucile ma si può ammazzare anche con la lingua parole buone parole buone sempre brava gente anche di fronte alle cose più si possono dire parole buone brava gente parole buone non mi stancherò mai di dirlo è solo questo da da dignità alle persone la pace dipende anche da noi sapete andiamo avanti mi sto prendendo stasera mi devo fermare basta vado agli auguri volevo leggere una lettera ma va bene così avanti e avanti sorridiamo sapete oggi ho incontrato quando suscito da questo portone una famiglia che la saluto una mamma un papà con la figlia su una su un lettino e anche lì e questa mamma mi è venuta in conto mi ha abbracciato io non avevo visto ancora la figlia sul lettino e ha iniziato a chitare di gioia a sorridere e ho detto ehi no e te vieni benedici mia figlia no e dove stavo guardate stava su questo lettino e ho detto ma che devo benedire è già benedetta e io ho chiesto e poi mi sta a piangere lei e ho detto ehi voglio che continui a donare il sorriso che che mo mi ha donato e mi dovete benedire voi a me e oggi ho ricevuto il più bel regalo da Gesù per questo viaggio la benedizione di questa di questa mamma e di questo papà e forse indirettamente anche quella ragazza mi avrà benedetto perché erai in tubato e non poteva parlare e il signore ti dona sempre luce per andare avanti bene ok ho ricevuto una lettra la leggero domani domani sera dai ok allora Fabiola vorrebbe gli auguri per la figlia Sofia che compie 19 anni Sofia ogni bene ogni bene a te avanti forte eh Maria vorrebbe gli auguri per i suoi 50 anni che compie oggi un augurio grande grande eh un augurio grande grande eh la signora Anna come i suoi 50 anni oggi avanti avanti eh la signora Anna vorrebbe un suo saluto e una preghiera Anna ogni bene eh poi sono tanti messaggi io vi abbraccio tutti e la vostra preghiera la porto qui eh domani mattina penso ci sarà la Santa Messa e porta tutto quanto lì mh fatto anche oggi questa settimana pasquale eh e e avanti ok ok mh e saluto solamente eh Michele e la moglie Nell per dirvi che ho letto la vostra letra e la leggero domani sera ok mh che è bellissima anche questa e e andiamo avanti condividete brava gente e vi do l'email enzocchiocciolasanfrancesco.org e andiamo avanti e facciamo i bravi eh ok a domani sera perché poi domani domani sera vabbè domani sera ok buonanotte brava gente buona giornata brava gente e San Francesco benedica il Signore benedica per intercessione di San Francesco le nostre vide e quelle terre martoriate dalla guerra eh in nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen buon cammino forti 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 eh forti e avanti ok eh